Appena uscito dalla camera ardente dell'ex sindaco di Pescara Carlo Pace, consigliere Lorenzo Sospiri, le chiediamo un ricordo dell'ex sindaco di Pescara. Mi fa piacere tra l'altro riscontrare i grandi affetti intorno alla figura di Carlo Pace, che è il giusto riconoscimento, placate le polemiche del periodo in cui era sindaco, come giusto che fosse, tra destra e sinistra, resta l'opera di un ottimo sindaco della città di Pescara. Girando per la città si riscontrano le attività prodotte da Carlo Pace, che tra l'altro per me è stato anche il sindaco con cui ho iniziato la mia attività amministrativa nella città di Pescara, oltre che un amico. Possiamo dire che Carlo Pace è stato un politico diverso da tanti altri, mai alzato la voce, sempre, mai sopra le righe, sempre molto misurato, posato. Il modo di fare politica che probabilmente oggi si è un po' perso. Sì, una persona educata, una persona scelta nel mondo civile, era un professore, non aveva mai fatto politica e si è appassionato al suo ruolo di sindaco con passione, con eleganza e con affetto verso la città. Un sindaco rispettato anche dal centro-sinistra, la presenza oggi a Pescara alla Camera Ardente di Carlo Pace e dell'onorevole Vittoria Dincecco dimostra che poi la politica è anche e soprattutto questo, rispetto fra le persone. Sicuramente, io credo che i sentimenti siano veramente al di sopra della politica, anzi, la politica dovrebbe ricominciare a essere proprio questo, un'unione tra i valori di tutte le parti. È stato un sindaco per bene, un signore, una persona che ha rispettato sempre tutti, i cittadini, gli amici, quelli che non conosceva ed era molto attento alla città. Io con lui ho collaborato anche nel Consiglio di Amministrazione del Museo delle Genti e ultimamente lui mi cercava per avere risorse ancora più importanti per l'Icra, che era la sua creatura.